Invece alla batteria, con Frankie Zobro, non mi ricordo, Bob Bokmeyer, con il bulletto, con il pio, e poi con il sestetto, anche con... c'è Baker, la tromba, insomma, mi ha riduto lo sovante, era solo un seduto. Mi ha fatto un mico e mi dico guarda chi c'è là, insomma chi c'è, c'è già in mano Allora, io non sono andato là, non ho chiesto a lui di scattare una foto, perché, allora signorole, il mondo di telefonini non esistevano, non gli ho chiesto un ortografo, perché temevo di disturbare il suo rilassamento, tutto qui, volevo raccontarvi solo questo, meditata gente.